ciao a tutti oggi ho ricevuto un'altra kawaii box non me lo aspettavo proprio e vediamo che cosa c'è all'interno di luglio quindi siamo a ripasso con i pagamenti allora l'uno è il il tema è sanrio summer splash qui le solite fotografie e vediamo cosa c'è all'interno allora la cartolina con il code kawaii f y per avere il logitto gratuito nel vostro ordine su sito blippo puntocom e vediamo cosa c'è allora un peluche arrabbiato con il test che è morbidissimo e questo si chiama aspettate che lo trovo dove sanrio soft plushy porsi poi c'è un paio di calze mai melodi così tutte rosa e questo sono sanrio character socks poi c'è un pacchettino di biscotti con anche le immagini sul biscotto e questo sono i gudetama castart biscuits poi c'è la penna che carino una penna azzurra con un gatto penso si mette a fuoco ok con in mano un ghiacciolo forse non sono sicura vediamo un po mancing paggi hamster pen è un cliché poi ci sono i sticky notes eccoli qua che si segnano le pagine ai lati come fate nelle immagini e questo si chiama sanrio characters sticky notes poi c'è allora mi sa che sono tanti fogliettini adesso li apro qui c'è la copertina in plastica poi ci sono i vari fogliettini da a con i pinguini sono tutti uguali si poi ci sono questi qui con i pinguini con anche le braccia e sono tutti così poi ci sono questi qui qua dietro c'è da a che pensano questi qua sempre hanno visto così da a con il cuore però immagini sempre pinguini e questo è il dieta e poi ci sono questi da a con i pinguini e dietro è così e poi ci sono questi che sono fogli normali e dietro c'è sempre da a e qua vediamo cosa c'è l'immagine possono servire per chiudere lettere fogliettini per lettere per le valigie per documenti eccetera vediamo cosa c'è scritto sanrio dai cat letter set poi c'è questo a un uoci tape e se lo apro ce la faccio sì eccolo qui è azzurro con il foil dorato e mi sembrano pesci sì e sono pesci è molto carino sì questa è la la figura che c'è ne voci e questo si chiama japanismo tifo tischi e voci tape e poi per ultimo ci sono caramelle di yellow kitty alla fragola e si chiama hello kitty strawberry jelly marshmallow e c'è tutto ok quello che vi è piaciuto di più è questo qui il set e anche luo c'è molto carino però è tutto molto carino ok per questo video è tutto metto un pollice all'insù e iscrivetevi al mio canale ciao